Pagina sportiva che, come dicevamo, inizia all'insegna del torneo benefico, ma anche molto competitivo, organizzato nei giorni scorsi dal centro Gulliver. Vediamo. Amici di Rete55, buongiorno e buonasera a voi. Bar eccellenza estate. Ambrogio, l'estate qui però non l'abbiamo portata. Ci avevamo preparato tutto. Dovete andare in fiducia, è proprio estate. Ok. Siamo quasi... Guardate la data sul calendario. Guardate l'abbigliamento, evidentemente potrebbe ingannare. Ma? Ma con che ospitone cominciamo. Ma con che ospitone, esatto. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, in coro. Buongiorno sindaco. Buongiorno sindaco. Che accoglienza. In bocca al lupo per la nuova trasmissione. Oh, grazie. Di sicuro successo. Ce lo segniamo, ce lo segniamo, perché poi se va male è colpa sua. No, noi guardiamo i numeri, se vediamo, te li facciamo vedere. E quindi a maggior ragione lo ringraziamo. Tutti si aspettano una domanda. Che io non farò. Che io non farò. Che io non farò. Non farà nessuno. Anche perché non so nulla. Eh, infatti. Una cosa potreste saperla però. E lo stadio è Franco Osso? Ma stiamo ultimando il bando per appunto l'assegnazione dello stadio e del Varesello. Quindi sarà una cosa sicuramente di grande interesse e speriamo che partecipi. Allora tu stai preparando l'appartamento, poi ci vorrà anche, come si dice... L'arredo, l'inquilino, quello non dipende dal comune. Noi possiamo solo mettere in condizioni tutti di avere delle strutture adeguate rispettando le regole. Questo è quello che possiamo fare. E dunque, rieccoci, il caccio l'abbiamo preso. Appena finito il panino, volevamo beccare quel panino ancora in bocca, quasi siamo riusciti. I tornei ci fanno per questa cosa qua. Anzi, ti dico anche di più. Dovrebbero obbligare tutti i giocatori, tutti, a usufruire del menù più ignorante possibile. Quindi salamella, senape, birra compresa. Perché poi sono tutti uguali dopo. Sono tutti belli pieni e lì la tecnica viene fuori. Infatti vedremo nel pomeriggio. Un bellissimo suggerimento anche per le categorie superiori. Per quei due o tre che non lo sapessero. Marco Cacciani era uno stopper, non un difensore centrale, uno stopper. E ci sono in giro, disseminati per la provincia, Tibie, Peroni. In giro perché tutto quello che girava attorno a lui, a parte le battute, è stato un giocatore non indifferente. No, vabbè, possiamo dire. Stamattina ancora in forma l'abbiamo visto. Assolutamente sì. E ora il basket perché stasera su Rete 55 vi aspetta l'ultima puntata stagionale di 55 Canestro. Canestro, ultimo appuntamento stagionale con il nostro approfondimento sul basket Lombardo. Perché? Perché ce l'abbiamo fatta. Il campionato di Serie C Gold è finito. Il campionato di Serie B quasi, manca pochissimo. La 2 anche pochissimo, va bene. Il Serie A giusto alle finali. Ma noi, sai, facciamo la Serie C Gold. Dico, sai, al nostro ospite di questa sera, il coach Bruno Bianchi. Coach, te hai finito da un po', però lei seguite tutte. Sì, 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 le ho seguite tutte. Un po' chiacchierando, un po' andando a rivedere, un po' seguendo il sito della federazione. Ho seguito fino in fondo le due promozioni in C Gold. Allora, le promozioni dalla C Gold alla Serie B. Prima, Piadena, la più attesa, lo dicevamo dall'inizio dell'anno, la squadra più forte, è rimasta la più forte, ha vinto da più forte, nel senso che in finale ha battuto 2-0 Lumezzane. Fuori casa, senza mai neanche aver difficoltà in gara 2, meno 10 al massimo Lumezzane, sarà rientrata un paio di volte sotto la doppia cifra, ma mai realmente in partita. Ce l'aspettavamo, Piadena, tutti. Sì, ce l'aspettavamo, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, ha vinto la regola season, ha vinto la pur promozione, ha vinto anche i play-off, passando sempre 2-0. Sinceramente il grande lavoro fatto da Antonio, da Antonio Tritto, si è visto poi alla fine. Non pensavo arrivassero al 2-0, io al 2-1 sì, cioè pensavo che Lumezzane una partita la portava a casa, invece sono stati proprio bravi a vincere in casa loro e a portarla a casa. Una promozione già scritta, ma vincere non è mai facile, sono stati bravi. Come sempre le cose scritte sono quelle più difficili da fare. Certo, assolutamente. Anche Piadena partiva con i favori del pronostico, a fine partita, nelle interviste di fine partita con Antonio Tritto, ha detto, noi non siamo Vigevano, siamo Piadena. Perché per tutto l'anno si è detto, Piadena potrebbe essere come Vigevano, si è fatto parallelismo, l'anno scorso Vigevano ha fatto 38 vittorie su 38 partite per vincere la Serie C Gold. Quest'anno Piadena, a dire il vero, 4-5 le ha lasciate per strada. È un po' più umana, Piadena. È un po' più umana, ma ti devo dire la verità, ci sono stati anche problemi di infortuni, io credo che senza problemi di infortuni forse non lasciavano neanche quelle 4-5. È tutto anche per lo sport, grazie, arrivederci.